Salve a tutti, bentornati! Continuiamo a parlare di Medioevo e cerchiamo di dirimere quella incredibile confusione che viene fatta e che è frutto di ignoranza riguardo alcuni fenomeni medievali messi tutti come la frittata degli avanzi che mamma fa la sera spesso nella stessa padella. L'eresia, la caccia alle streghe, i tribunali di rinquisizione e via discorrendo. Proviamo a fare un po' di ordine. Che cos'è l'eresia? Il concetto medievale di eresia. L'eresia è un modo di spiegare la fede in maniera sbagliata. Dietro ogni eresia ci sono da sempre credenti appassionati, però credenti disobbedienti, sicuramente alcuni molto sinceri. E anche c'è, come dire, un tentativo di razionalizzazione del mistero. E' questo il passaggio dalla dottrina all'eresia che porta poi a esagerazioni eccessive nel rapporto fede-ragione. Pensiamo, per esempio, a una delle più grandi eresie della storia, a Adario, da cui prende nome l'eresia ariana, che non riusciva razionalmente a spiegarsi l'incarnazione e quindi poi finì per negarla. La caccia alle streghe è un'altra cosa. La stregoneria è sempre esistita nella storia. Il caso medievale, cioè come se il Medioevo avesse come essenziale, diciamo, della sua vicenda storica, la caccia alle streghe, è un'autentica falsità. Cioè, pensare che le streghe fossero povere donne perseguitate dalla società cristiana. Ne parleremo fra un po'. La stregoneria è sempre esistita. Ci sono stati stregoni, sciamani asiatici, agli aztechi e gli incas erano scannatori di uomini, costruivano spesso i loro templi con le interiora, diciamo, umane di tribù inferiori e sottomesse a loro. E sono sempre stati anche cannibali. Nella mitologia la stregoneria è sempre esistita. Pensiamo a Medea, che era figlia della maga Circe. Pensiamo a Orazio, che ci parla della famosa Canidia, che fa filtri magici uccidendo un bambino. Pensate che anche Properzio e Dovidio, che erano pagani, parlano di uomini e donne diabolici che compiono malvagità. Uno storico molto preparato, moderno, vivente, l'ho ascoltato giusto l'altro giorno, Michael Hezeman, ci ricorda che i germani, prima di essere convertiti al cristianesimo, credevano fermamente nella stregoneria. Bruciavano le streghe, quelle che loro ritenevano essere le streghe, e ne mangiavano la carne per averne gli stessi poteri. E Carlo Magno, quello che è l'origine dell'impero sacro romano, tentò proprio di estirpare questo. Basta leggere l'editto di Rotari, del 643, che è precedente a Carlo Magno, che cercò di salvare le streghe. E pensate che Gregorio VII, il papa di cui abbiamo parlato nella riforma della Chiesa dell'anno 1000, quello che ebbe, come dire, la lotta con Enrico IV, nel 1080 scrisse a re Harald di Danimarca, c'è una fonte precisa che lo dice, chiedendogli di non perseguitare le donne accusate, perché avrebbe suscitato il castigo divino, quindi era un papa che difendeva le presunte streghe. Un grande storico delle religioni, Mirsea Eliad, ricorda che le streghe romene e slave erano ritenute dai pagani portatrici di epidemie per uomini e per bestiame. Provocavano siccità nella mentalità pagana, gettavano il malocchio e via dicendo. Quindi una prima lampante conclusione è che nella evangelizzazione, nel portare il Vangelo nella Nuova Europa, nei secoli VI, VII e VIII d.C., la Chiesa ha proprio sbugiardato queste credenze assurde nei poteri della stregoneria e ha piuttosto cercato di difendere chi era accusato, di difendere le streghe, non di ucciderle. Una seconda cosa riguarda, ne parlo qui perché è opportuno dirlo, la dottrina cristiana sui fenomeni della ossessione e possessione diabolica. Ne parliamo in fretta, poi lo riprenderemo in un'altra conversazione. La Chiesa crede nella ossessione e possessione diabolica, ma usa anche adesso un metodo assolutamente pacifico, cioè l'esorcismo, ovvero usa l'acqua benedetta, il sale benedetto, il crucifisso, che non fanno alcun male, non solo, ma indica chiaramente quali sono le cause di questi disturbi, perché sa benissimo come Satana, di cui parla tutto il Vangelo, agisce, quindi non attribuisce a chiunque sia un minimo disturbato in modo così generico e casuale la drammatica patente di posseduto e non dà a nessuno in maniera indiscriminata l'epiteto di strega o stregone, anzi conosce molto bene la differenza e ovviamente anche la necessità conseguente tra una possessione diabolica e un disturbo psicologico. Torniamo alla storia, furono il Cinquecento e il Seicento, quattordicesimo e quindicesimo, scusate, quindicesimo e sedicesimo secolo, proprio i secoli di grande risveglio della magia. Pensiamo, quindi siamo fuori dal Medioevo, pensiamo a un filosofo come il Paracelso, nato nel 1493, morto nel 1541, che fondò una sua medicina, diciamo, scrisse un trattato di medicina e la fondò su quattro colonne. La cura di un corpo malato deve essere fatta con la filosofia, la astrologia, la alchimia e la virtù. Tra parentesi, io credo che valga anche la pena di analizzare la sua opera che non è poi così malvagia e che precorre la valutazione psicofisica o somatizzazione della malattia di cui oggi tanto la medicina parla. Tommaso Campanella e Giordano Bruno furono persone che fecero larghissimo uso della magia. Il primo, Tommaso Campanella, scrisse il De Fato Siderali, evitando la traduzione anche semplice del titolo Dice Tutto, come evitare il fato che viene dalle stelle. Il secondo, Giordano Bruno, scrisse addirittura il De Magia. Egli riteneva, lo scrisse, di essere un messaggero celeste inviato sulla Terra, di poter divenire del tutto insensibile al dolore e alla morte e chiamava se stesso un mago e tutti i maghi erano venatores animarum, cioè persone capaci di perforare l'anima, di analizzare l'anima, di guarire il corpo. Proprio quello che anche oggi credono molti sciamani australiani, molti stregoni africani o amazzonici. Quindi non solo al tempo il popolo era interessato a queste forme di stregoneria, ma lo erano anche principi, signori e re delle corti. pensiamo che il famoso Nostradamus, a cui certi salotti contemporanei danno una abnorme importanza, nacque nel 1503 e fu un ospite, direi assai prezzolato, molto ben pagato, in Francia alla corte di Enrico II. E non dobbiamo nemmeno dimenticare che la più grande, tra virgolette, ovviamente caccia alle streghe, cioè la più grande opposizione alla stregoneria e alla susseguente superstizione, la fece proprio la rivoluzione scientifica, che fu la vera nemica della magia. Pensiamo a Copernico, a Galileo, a Bacone. Dunque, sintetizzando, primo la stregoneria è di origine pagana, secondo i regni pagani cercavano di estirparla senza tanti scrupoli morali, terzo è molto presente anche oggi, dove il cristianesimo però non è mai arrivato, in quei luoghi in cui non è mai arrivato. Quarto, siamo extra medioevo quando parliamo di caccia alle streghe, se c'è mai stata una caccia alle streghe, ma proprio nell'età invece dell'umanesimo. La caccia alle streghe infatti continuò in questo periodo all'opera dei governi laici e le autorità ecclesiastiche, pur condannando il crimine di stregoneria, furono molto meno sanguinose e violente. Voglio ancora citare il Malleus Maleficarum del 1486, cioè il Martello delle Malefiche, scritto da due teologi dominicani, il quale fornisce moduli per interrogare le presunte streghe e quindi dà un regolamento giuridico che cerchi ad evitare le esagerazioni. Franco Cardini, uno storico del Medioevo di oggi, ci dice chiaramente che l'inquisizione c'entra ben poco con la caccia alle streghe, anzi spesso gli inquisitori sono stati un elemento di equilibrio e di calma verso le feroci stanze provenienti dal basso. E così abbiamo finito. Alla prossima!